E' l'associazione che rappresenta la città di Arezzo durante la giostra del Saracino, ma anche in giro per l'Italia e all'estero. E' Signarezzi la rappresentativa comunale che raccoglie al proprio interno le figure dei valletti, dei vessilliferi, dei fanti del comune e che ogni giostra del Saracino sfila per le strade del centro storico. E' stato proprio in occasione dell'edizione straordinaria di sabato 27 agosto che il gruppo di figuranti dell'associazione ha ricevuto alcune offese proprio durante la sfilata. Il tratto più caldo è stato sicuramente quello dei portici. Lì effettivamente abbiamo avuto una buona recrudescenza di epiteti di tutti i tipi, da quelli meno offensivi a quelli anche personalmente tosti, duri. Io vorrei dire in generale che chi offende la rappresentativa comunale e il gonfalone della nostra città offende se stesso. Cioè vorrei che ci fosse magari come dovrebbe essere il rispetto per questi figuranti, chiamiamoli così. Penso che, come dire, attaccare queste figure sia molto molto gratuito. Ecco, siamo in pieno clima pregiostra ancora una volta. Cosa vi aspettate dall'edizione di settembre? Ma, diciamo, noi facciamo sempre la nostra parte. Con orgoglio, con onore, credo che negli anni si sia visto. Ci aspettiamo, come dire, che questo impegno, questo onore sia sottolineato. Non dico con applausi, eccetera. Ma perlomeno anche il fatto che quando sfiliamo, non lo dico io, lo dico c'è chi, diciamo così, mi ha riferito e ha visto anche il nostro comportamento, sfiliamo con onore e con solennità. Che fosse apprezzato, ecco, questo nostro, come dire, impegno e questo onore.